Attenzione ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, siamo qui oggi con l'apertura dell'ultimo, barra ultimi due, perché deciderò durante il video, kit del sole e luna, sintonia mentale. Quindi andremo ad aprire gli ultimi quattro oppure gli ultimi otto in base al pool che farò in questo kit. E niente ragazzi, iniziamo subito a spacchettare senza perderci in suancio e andiamo a togliere la pellicola con delicatezza senza rompere il tutto, e voilà. Poi facciamo così, facciamo così, facciamo così, e voilà. Comunque ragazzi, stanno aumentando un po' troppo gli iscritti ultimamente, eh, datevi una calmata, cioè, non è che possiamo raggiungere troppi iscritti, sennò poi dopo gli haters, cioè, chi ci combatte più con gli haters. E andiamo ad aprire questo primo kit, e voilà, e andiamo a vedere qual è la carta promozionale, ragazzi, se è un tapufini distruggo tutto quello che c'è sta qua dentro. Oh, vedo del verde quindi non è tapufini, abbiamo, attenzione, Among Us Olografico Promozionale, Sun & Moon 202. Carino l'artwork, vabbè ci sta, dai ragazzi, ci sta, ci sta, l'importante è non aver trovato tapufini perché se avessi trovato un altro tapufini, no, cioè, era una cosa impossibile, nessuno. E andiamo a richiudere questo kit, attenzione, e lo mettiamo qua dietro da sfondo, tanto qua ci sarà la faccia che lo copre, quindi non ci frega niente. Abbiamo quattro pack, con l'artwork di Giladino e Gershaw, Mewtwo, Darkrai e Umbrio, e Aspion e Deoxys, insomma, sono sempre artwork differenti, ci stanno tutti e quattro, che spettacolo. Quindi abbiamo questi quattro pack, li dividiamo così, one, two, three, four. E andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno di questo primo pack, quindi lasciate subito un bel like per il suo segno morale, ragazzi, oggi voglio trovare una bella full artina. Perché diciamo che con le jackset tag team mi sta andando molto, no, zitti, zitti, non è una cosa possibile, non è una cosa possibile, che adesso io ho detto, se qua c'è una full art, ragazzi, basta, mi dovete regalare 50 euro per uno, non è possibile. Energia, Arken, o Arken, vabbè, come mi pare, Lampent, Brilom, Grimer Dialola, Carrablast, Fletchling, vedo qualcosa, che taglia, che spettacolo. Honage, Pikachu, ragazzi, c'è pure Pikachu in questa espansione, non l'avevo ancora mai trovato, l'artwork dietro è carino, la faccia è un po' strana, sono sincero, però sembra un po' a palla sotto nel, buono, non lo so. Poi abbiamo, attenzione, Selebi Reverse, che spettacolo, ragazzi, l'artwork di questo Selebi mi piace un bot, ho visto una foto su Instagram al volo, e poi, ultima carta, attenzione, sboom, Mewi, GX, full art, ragazzi, avevo detto che volevo trovare una full art e l'ho trovata, eccola qui. Sicuramente non è la full art migliore che potevo trovare, nel senso, non è una delle mie preferite, però, è una full art e dobbiamo accontentarci, ragazzi, che spettacolo, ragazzi. Questi kit sono uno meglio dell'altro, quindi andiamo subito a slipare questo Mewi, GX, full art al primo pack, mamma mia, che roba. Eccolo qui, e lo mettiamo subito qua dietro da sfondo, in modo che si illumini un pochetto. Così? Cos'ha? Così ci sta? E mettiamo anche subito Selebi Reverse, Raro nella slip, mamma mia, che spettacolo. Eccolo qui, e lo mettiamo qua davanti al mio Mewi. No, però me lo copre, vabbè, uguale. Quindi, questo primo pack, ragazzi, è andato la grandissima, c'era anche un Pikachu, vabbè, poi dopo lo vedremo. E andiamo in questo secondo pack, ragazzi. Quindi, già da come è andato questo pull, credo che l'altro kit non lo aprirò, oppure lo aprirò domani, se ci avrò voglia, buono, non so come andrà. E andiamo. Attenzione, questo pacchetto si è quasi aperto bene, voglio provare a tirarle fuori così. Tanto qua non ci dovrebbe essere niente, ho già trovato la full art al dita, pare che c'è qualcosa di buono. Quindi se si rovina la carta è uguale. Ok, non ce la faccio. E ora, non ci sarà fatica, è impossibile. Io non so come sia possibile che non sia possibile, non capisco. Allora, carta codice che togliamo. Trick a quattro che trichiamo. E andiamo con... Attenzione, attenzione, ragazzi, attenzione, attenzione. Energia. Lampent. Musharna. Dragonair. Honage. Magna Might. Fletching. Onyx. Fletchinder. Lapras e Reverse. Attenzione, ragazzi, adesso ce l'ho doppio. E per finire... Spawn. Brutto. Custles è proprio brutto. Non mi piace Custles. Invece Lapras e Reverse, ragazzi, a me è carino, Star Trek. Sono deciso se mi metterò una slip o no, perché è doppiona. Però c'è pure la mossa surf con l'arcobaleno, l'acqua, le cose. Sì, devo mettere una slip, ragazzi, non resisto. Eh, lo so, lo so. Slivato. E andiamo con questo terzo pack, ragazzi. Terzo ed ultimo pack di oggi. Non è vero, non è terzo ed ultimo, è terzo e penultimo pack di oggi. Questo lo distruggo subito all'inizio. Vaffancina, così si impara. Chiaro che si riega, no, non fiamo scherzi. E andiamo con... Carta codice che togliamo. Trick a quattro che tricchiamo, ragazzi. Sto a crepare de caldo, non so come è possibile. C'ho pure l'aria condizionata, ci vediamo comunque. Energia. Allenatore Città Oscura Musharna Cortesia di Misty Drillbur Slagot Fungus Honage Magremite Attenzione, arcene reverse E per finire, boom, escadrilla. La roca già ho reverse, quindi non ci facciamo un bel cacchio di niente. E andiamo con questo quarto ed ultimo pack di oggi, ragazzi. Allora, abbiamo già trovato una full art, una reverse spettacolare, tara, quindi ci sta. Però, voglio concludere con una bella GXettina. Magari ci sta Aerodactyl in questa espansione, quindi Aerodactyl lo vorrei trovare, sono sincero, perché è una GX normale così, però... Boh, mi piace l'artwork d'Aerodactyl, quindi vorrei trovare quello. Allora, attenzione, abbiamo distrutto... Oh, 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 era una tag team. Zitti, 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 zitti. Mamma mia, che kit spettacolari. Trick a quattro che trichiamo, andiamo subito a vedere. Che carta è, ragazzi, era una tag team, molto bene, quindi energia. Tirtuga, allenatore, Vigoroth, Hutut, Scraggy, Numel, Tainamo, Poipol. Attenzione, meditai traverse, e per finire, sboom, Raulet Exeggutor di Alola GX, ragazzi. Un altro Raulet Exeggutor di Alola... Vabbè, insomma, avete capito, perché già l'ho trovato in un altro kit aperto in preced... Aperto in precedenza... Aperto in precedenza... È andata via luce o sbaglio? Vabbè. È aperto già in precedenza, e quindi andiamo subito... Ma che stavo a dire? Mi sono un po' destabilizzato un attimino, perché diciamo che l'ora è un po'... È un po', diciamo, un po' tarda. Quindi, ultimo pack, Raulet Exeggutor di Alola GX, ragazzi. Che spettacolo debullo che ho fatto. Full Art, più GX e Tag Team, più Sela e più Reverse. Mamma mia, che roba. Quindi, ragazzi, ovviamente... Quell'altro kit non lo andrò ad aprire adesso, non lo andremo ad aprire domani. Perché vi voglio più carichi, ragazzi. Dobbiamo arrivare al giorno dell'espansione del box. Super carichissimi a manetta. Quindi, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Se ancora non mi seguite, non andate a barra sotto G, barra sotto C. E niente, ragazzi. Andate a vedere tutte le foto che ci sono, perché c'è un botto di roba. E basta, ragazzi. Qui aumentano le condizioni, perché sennò schiatto di caldo. E arrivederci. Like, suscrivetevi, è tutto quello che volete. Ho fatto vedere la marca del condizionatore. Ragazzi, non mi pagano per far vedere la marca. Ve lo dico, infatti la copro. Grazie a tutti.